Carino, un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda. Soltanto che uno... è un gatto! L'altro... quasi! Gatto contrefatto! Su Pop! Qual è il problema? Chi lotta... può perdere... Pikachu! Ma chi non lotta... Bene, si comincia! Ha già perso! Scrivalo! Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi. Allora ci siamo! Ecco, sistemato! Potete farcelo! Le sfide più epiche continuano con... Loro che sono? Pokémon Nero e Via! Non vedevamo l'ora, non è vero, Pikachu! Su Pop! Tra poco! Gatto contrefatto! Quando il male gioca le sue carte... le leggendari stelle ninja... Le leggendarie stelle ninja... Stella ninja clone agganciata! Sono al sicuro! Power Rangers Super Ninja Steel... Ce l'abbiamo fatta! Su Pop! Tutti possiedono almeno un orologio... dell'orologio del mio bisnonno! Soltanto che alcuni... Non lo guardano molto spesso! Abbiamo ancora te! Sarà impossibile fare tardi oggi! Charlie! Sei senza speranza! Non ho sentito la sveglia stamattina! No! È tutto sotto controllo! Tranquilla! Super Charlie è qui! Charlie è tardi! Su Pop! Eravamo grizzi, ineducati... Ma avevamo qualcosa... Qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno... è un gatto! L'altro... quasi! Gatto contrefatto! Su Pop! Qual è il problema? Chi lotta? Può perdere! Pikachu! Ma chi non lotta? Bene, si comincia! Ha già perso! Schivalo! Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi! Allora ci siamo! Ecco, sistemato! Potete farcelo! Le sfide più epiche continuano con... Loro chi sono? Pokémon nero e via! Non vedevamo l'ora, non è vero Pikachu! Su Pop! Quando il male gioca le sue carte... Dai un'occhiata! Il pericolo è imminente! Lasciati andare, strega! I miei ricordi sono già stati rubati in passato! Ma una cosa è certa! Con loro in circolazione... Non lascerò che succeda di nuovo! Conosce anche lui, trucchi ninja! Le leggendarie stelle ninja! Bella ninja clone agganciata! Sono al sicuro! Power Rangers Super Ninja Steel! Ce l'abbiamo fatta! Su Pop! Oggi Snoopy parte per Marte, il pianeta rosso! Scopri lo spazio con Snoopy, nel tuo Happy Meal! Impara qualcosa di nuovo ogni giorno! Da oggi, con ogni Happy Meal, puoi scegliere tra un libro o un gioco! Scopri con noi le avventure dei gemelli Gelsomino! In esclusiva solo da McDonald's! Colleziona le tutte! Io sono Capitano America! Io sono Iron Man! Io sono Hulk! Io sono Thanos! La battaglia finale è nelle tue mani con i nuovi set Lego Marvel Avengers! Senti che t'è Sant'Anna! Senti che t'è Sant'Anna! Senti che t'è Sant'Anna! Bevilò perché? Perché è vero infuso di tè! In acqua Sant'Anna, con il succo dei migliori frutti! Senti che t'è Sant'Anna! Sant'Anna! Sant'è Sant'Anna! Buono come lo immagini! Super Zinx! La stazione di polizia! Trappole, passaggi segreti e molto di più! Riuscirà Chuck Chain a cugine di prigione! Vivi le tue avventure con Super Zinx! Da Magic Box! Siete pronte per i Ring Pop Pets? La nuova collezione di coniglietti, gattini, maialini e tanti altri cuccioli! 24 cuccioli da collezionare e scambiare! Cerca il pappagallino super raro! Con le adorabili stickers profumate! Collezionali tutti! Ring Pop! Ring Pop Pets! Quale animaletto troverai? Peep Up Baby! Ma che sorpresa! Scopri un tenero baby con accessori! Vestilo e prenditi cura di lui! Così teneri! Tutti da collezionare! Peep Up Baby! Che sorpresa! Grandi giochi! Oh look at! Apri una porta, cosa mai troverai? In ogni porta tanti fantastici accessori e una chiave nascosta! Ogni chiave apre la porta successiva! Scopri il contenuto dello scrigno segreto! Oh look at! Grandi giochi! Io dico che non puoi migliorare un capolavoro! Guarda qui! Ma cos'è? Tu non hai fame? Nuovi sofficini con ancora più ripieno! Un capolavoro di gusto! E porra! Tu non hai fame di pizza! Ecco le nuove pizze sofficini! La piccoletta per i piccoletti di casa! La sofficiosa da condividere! Yum! L'Ethrobots Combo Missione Chiocciolina! Scansione Nemico! Trovato! Trasformazione Big Robot Sur! Attivazione Chiocciolina e Arma Gun Interrogator! Nemico Eliminato! Trasformali e cambiano colore al sole! L'Ethrobots Big Robot Sur! In edicola con il fumetto! Ma è la foresta di Mascia e Orso! Alle Olandia ci sono tantissimi mondi da scoprire! Come la foresta di Mascia e Orso! La nuova area dedicata ai personaggi dei cartoni! Con Vroom! Tante sorprese per tutta la famiglia! E il nuovissimo show Il Circo della Foresta! E se vieni a maggio per incontrare Bing e Flop! Torni grazie a luglio! Scopri con noi l'Elandia! Orologio del mio bisnon! Soltanto che alcuni non lo guardano molto spesso! Abbiamo ancora te! Sarà impossibile fare tardi oggi! Charlie! Sei senza speranza! Ho sentito la sveglia stamattina! No! È tutto sotto controllo! Tranquilla! Super Charlie è qui! Charlie è tardi! Su Pop! Eravamo grizzi, ineducati, ma avevamo qualcosa, qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno... è un gatto! Mia mia! L'altro! Quasi! Gatto contrafatto! Su Pop! Qual è il problema? Ha già perso! Schivalo! Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi! Allora ci siamo! Ecco! Sistemato! Potete farcelo! Le sfide più epiche continuano con... Loro chi sono? Pokémon Nero e Via! Non vedevamo l'ora! Non è vero, Pikachu! Su Pop! Quando il male gioca le sue carte... Dai un'occhiata! Il pericolo è imminente! Lasciati andare, strega! I miei ricordi sono già stati rubati in passato! Ma una cosa è certa! Con loro in circolazione... Non lascerò che succeda di nuovo! Conosce anche lui, Trucchi Ninja! Le leggendarie stelle ninja! Bella ninja clone agganciata! Sono al sicuro! Power Rangers Super Ninja Steel! Ce l'abbiamo fatta! Su Pop! Eravamo grizzi, ineducati... Ma avevamo qualcosa... Che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno... È un gatto! L'altro... Quasi! Gatto contrafatto! Su Pop! Tutti possiedono almeno un orologio! L'orologio del mio bisnum! Soltanto che alcuni... Non lo guardano molto spesso! Abbiamo ancora te! Sarà impossibile fare tardi oggi! Charlie! Sei senza speranza! Non ho sentito la sveglia stamattina! No! È tutto sotto controllo! Tranquilla! Super Charlie è qui! Charlie è tardi! Su Pop! Eravamo grezzi! Ineducati! Ma avevamo qualcosa... Qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno... È un gatto! L'altro... Quasi! Gatto contrafatto! Su Pop! Qual è il problema? Chi lotta? Può perdere! Pikachu! Ma chi non lotta? Bene, si comincia! Ha già perso! Schivalo! Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi! Allora ci siamo! Ecco, sistemato! Potete farcelo! Le sfide più epiche continuano con... Loro chi sono? Pokémon Nero e Yacht! Non vedevamo l'ora, non è vero Pikachu! Su Pop! Nerf! Basta un suono per scatenare una potenza mai vista con il nuovo Nerf Ruccus! Sprigiona la tua potenza con il nuovo Ruccus! L'unico è Nerf! Gli Avengers sono tornati con i Titan Hero Power FX! Dai voce ai tuoi supereroi! Io sono Iron Man! Ed unisciti a loro nella battaglia contro il terribile Thanos! Rivivi imprese straordinarie con tutti gli eroi Marvel! E scopri l'incredibile collezione Titan Hero! Oggi Snoopy parte per Marte il pianeta rosso! Scopri lo spazio con Snoopy nel tuo Happy Meal! Impara qualcosa di nuovo ogni giorno! Da oggi con ogni Happy Meal puoi scegliere tra un libro o un gioco! Scopri con noi le avventure dei gemelli Gelsomino! In esclusiva solo da McDonald's! Collezionale tutte! Bicca! Con il potere del gioco di squadra! Cadrai sempre in piedi! L'espansione Sole e Luna Legami Inossidabili del gioco di carte collezionabili Pokémon è ora disponibile! Ogni busta di espansione da 10 carte è venduta separatamente! Le carte variano a seconda delle buste! Irresistibili goccio di cioccolato su squisita pasta frolla! Goccio le pavesi! Riparti con più gusto! Eh, tu lo senti, vero? Bicca Bicca! Bicca 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 è adorabile! Tu sei adorabile! Non mi capiscono, dai! Pokémon Detective Pikachu dal 9 maggio al cinema! Mojipox! Tristi o trendy? Lo decidi tu! Scopri le storie di Mojipop e scegli gli accessori più divertenti! Sono più di 90 tutti da collezionare! Mojipox da Magic Box! A Triangolandia sono arrivati i fantastici amici! Alla ricerca di un magico troll! Non è un quadrato, non è rotondo! È la merenda più gioco del mondo! Sono amici dei bambini! Ecco qui! Scopri i succhi più divertenti! Triangolini Valfrutta! Il gioco con la frutta dentro! È una magia Valfrutta! Quando il male gioca le sue carte... Dai un'occhiata! Il pericolo è imminente! Lasciati andare, strega! I miei ricordi sono già stati rubati in passato! Ma una cosa è certa! Con loro in circolazione... Non lascerò che succeda di nuovo! Conosce anche lui, trucchi ninja! Le leggendarie stelle ninja! Bella ninja clone agganciata! Sono al sicuro! Power Rangers Super Ninja Steel! Ce l'abbiamo fatta! Su Pop! Tutti possiedono almeno un orologio! L'orologio del mio bisnob! Soltanto che alcuni... Non lo guardano molto spesso! Abbiamo ancora te! Sarà impossibile fare tardi oggi! Charlie! Sei senza speranza! Non ho sentito la sveglia stamattina! No! È tutto sotto controllo! Tranquilla! Super Charlie è qui! Charlie è tardi! Su Pop! Eravamo grezzi! Ineducati! Ma avevamo qualcosa... Qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno... È un gatto! L'altro... Quasi! Gatto contrafatto! Ero Pikachu! Su Pop! Quando il male gioca le sue carte... Dai un'occhiata! Il pericolo è imminente! Lasciati andare, strega! I miei ricordi sono già stati rubati in passato! Ma una cosa è certa! Con loro in circolazione... Non lascerò che succeda di nuovo! Conosce anche lui, frucchi ninja! Le leggendarie stelle ninja! Bella ninja clone agganciata! Sono al sicuro! Power Rangers Super Ninja Steel! Ce l'abbiamo fatta! Su Pop! Tutti possiedono almeno un orologio! L'orologio del mio bisnob! Soltanto che alcuni... Non lo guardano molto spesso! Abbiamo ancora te! Sarà impossibile fare tardi oggi! Charlie! Sei senza speranza! Non ho sentito la sveglia stamattina! No! È tutto sotto controllo! Tranquilla! Super Charlie è qui! Charlie è tardi! Su Pop! Eravamo grizzi! Ineducati! Ma avevamo qualcosa! Qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno... È un gatto! L'altro... Quasi! Gatto con trefatto! Su Pop! Oggi Snoopy parte per Marte il pianeta rosso! Scopri lo spazio con Snoopy nel tuo Happy Meal! Impara qualcosa di nuovo ogni giorno! Da oggi con ogni Happy Meal puoi scegliere tra un libro o un gioco! Scopri con noi le avventure dei gemelli Gelsomino! In esclusiva solo da McDonald's! Colleziona le tutte! Io sono Capitano America! Io sono Iron Man! Io sono Hulk! Io sono Thanos! La battaglia finale è nelle tue mani con i nuovi set Lego Marvel Avengers! Costruisci le battaglie più epiche con i nuovi set Lego Star Wars! Sì! Vai con i missili! Dai! Sconfiggiamo l'impero! E vai! Oggi puoi costruire le battaglie più epiche con i nuovi set Lego Star Wars! C'era una volta nel mondo incantato di Gardaland una famiglia davvero speciale alle prese con avventure straordinarie! Nella nuova foresta incantata si imbatterono in creature da fiaba e dormirono in un regno dove tutto è magia! Vivi la più magica delle avventure nel nuovo fantastico Gardaland Magic Hotel! Interamente tematizzato! Prenota ora! Peepot Baby! Ma che sorpresa! Scopri un tenero baby con accessori! Vestilo e prenditi cura di lui! Così teneri! Tutti da collezionare! Peepot Baby! Che sorpresa! Grandi giochi! Surprise, surprise! Flower Surprise! Entra nel magico mondo di Flower Surprise con i profumi reali dei fiori! Sotto i petali si nasconde una bellissima principessa da pettinare e acconciare! Collezionale tutte! Grandi giochi! Senti che te è Sant'Anna! Senti che te è Sant'Anna! Senti che te è Sant'Anna! Bevilò perché? Perché è vero infuso di tè in acqua Sant'Anna con il succo dei migliori frutti! Senti che te è Sant'Anna! Sant'Anna! Sant'è Sant'Anna! Buono come lo immagini! Magipox! Tristi o trendy? Lo decidi tu! Scopri le storie di Magipop e scegli gli accessori più divertenti! Sono più di 90 tutti da collezionare! Magipox da Magicbox! Sono arrivati i nuovi Super Zinx! Più di 80 nuovi personaggi da collezionare! Con i nuovi nascondigli! Cerca il Super Zinx cristallo e scopri i nuovissimi super veicoli! Super Zinx da Magicbox! Qual è il problema? Chi lotta? Può perdere! Ah! Pikachu! Ma chi non lotta? Bene! Si comincia! Ha già perso! Schivalo! Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi! Allora ci siamo! Ecco! Sistemato! Potete farcelo! Le sfide più epiche continuano con... Loro chi sono? Pokémon nero e via! Non vedevamo l'ora! Non è vero, Pikachu! Su Poppa! Quando il male gioca le sue carte... Dai un'occhiata! Il pericolo è imminente! Lasciati andare, strega! I miei ricordi sono già stati rubati in passato! Ma una cosa è certa! Con loro in circolazione... Non lascerò che succeda di nuovo! Conosce anche lui, trucchi ninja! Le leggendarie stelle ninja! Della ninja clone agganciata! Sono al sicuro! Power Rangers Super Ninja Steel! Ce l'abbiamo fatta! Su Poppa! Tanto tempo fa! Tutti possiedono almeno un orologio! L'orologio del mio bisnob! Soltanto che alcuni... Non lo guardano molto spesso! Abbiamo ancora te! Sarà impossibile fare tardi oggi! Charlie! Sei senza speranza! Non ho sentito la sveglia stamattina! No! È tutto sotto controllo! Tranquilla! Super Charlie è qui! Charlie è tardi! Su Poppa! Perchè è vero infuso di tè in acqua Sant'Anna con il succo dei migliori frutti! Santa e Sant'Anna! Buono? Come lo immagini! Letrobots Combo Missione Chiocciolina! Scansione Nemico! Trovato! Trasformazione Big Robot Sur! Attivazione Chiocciolina e Arma Gun Interrogator! Nemico Eliminato! Trasformali! E cambiano colore al sole! Letrobots Big Robot Sur! In edicola con il fumetto! Ci siamo ispirati a voi! Per creare l'abbraccio perfetto fra la panatura più croccante e la carne più tenera! Prova la nostra linea di impanati preparati con carne macinata di pollo e tacchino! Scopri le nuove cotolette Amadori! Parola di Francesco Amadori! Scopri di più su ci siamo ispirati a voi.it Mojipops! Tristi o trendy? Lo decidi tu! Scopri le storie di Mojipop e scegli gli accessori più divertenti! Sono più di 90 tutti da collezionare! Mojipops da Magic Box! Big Robot! Con il potere del gioco di squadra... Cadrai sempre in piedi! L'espansione Sole e Luna Legami Inossidabili del gioco di carte collezionabili Pokémon è ora disponibile! Ogni busta di espansione da 10 carte è venduta separatamente. Le carte variano a seconda delle buste. Siete pronte per il Ring Pop Pets? La nuova collezione di coniglietti, gattini, maialini e tanti altri cuccioli! 24 cuccioli da collezionare e scambiare! Cerca il pappagallino super raro con le adorabili stickers profumate! Collezionali tutti! Quale animaletto troverai? L.O.L. Surprise! Cap Cap Hair Goals! L.O.L. Surprise Hair Goals! 15 sorprese anche in edicolo! Giochi preziosi! Glitterate in edizione limitata! Scopri anche le Lils Makeover! Sorelline e cucciolini nella nuova collezione a forma di bigodino! Pupsi Sparkling Crater! Che cucciolo proverai! Dagli da bere, qua che vedrai! Che cosa farai! Farà spit o farà pooppo? Pupsi Sparkling Crater! Cuccioli Pupsi! Giochi preziosi! Spit o poop? Eravamo grizzi, ineducati, ma avevamo qualcosa, qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno è un gatto! L'altro! Quasi! Gatto contrafatto! Su Pop! Oh! Voi l'avete schivato il... Tra poco! Pokémon nero e bianco! Avventure a unima e altrui! Qual è il problema? Chi lotta? Può perdere! Ah! Pikachu! Ma chi non lotta? Bene, si comincia! Ha già perso! Schivalo! Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi! Allora ci siamo! Ecco, sistemato! Potete farcelo! Le sfide più epiche continuano con... Loro che sono? Pokémon nero e ghiacca! Non vedevamo l'ora, non è vero Pikachu! Su Pop! Pippo Baby, ma che sorpresa! Scopri un tenero baby con accessori! Vestilo e prenditi cura di lui! Così teneri! Tutti da collezionare! Pippo Baby, che sorpresa! Grandi giochi! Follow Goods! Apri una porta, cosa mai troverai? In ogni porta, tanti fantastici accessori e una chiave nascosta! Ogni chiave apre la porta successiva! Scopri il contenuto dello scrigno segreto! Follow Goods! Grandi giochi! Io dico che non puoi migliorare un capolavoro! Guarda qui! Ma cos'è? Tu non hai fame? Nuovi sofficini con ancora più ripieno! Un capolavoro di gusto! Eccola! Tu non hai fame di pizza? Ecco le nuove pizze sofficini! La piccoletta per i piccoletti di casa! La sofficiosa da condividere! Yum! Super Zinx! Avventure a tutto gas! Con le super rampe di lancio! Esplora l'incredibile laboratorio segreto! E combatti contro Dr. Chamber! Super Zinx! Da Magic Box! Oggi Snoopy parte per Marte! Il pianeta rosso! Oh! 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 Scopri lo spazio con Snoopy nel tuo Happy Meal! Impara qualcosa di nuovo ogni giorno! Da oggi con ogni Happy Meal puoi scegliere tra un libro o un gioco! Scopri con noi le avventure dei gemelli Gelsomino! In esclusiva solo da McDonald's! Colleziona le tutte! Nero Giardini Junior! C'è un mondo da scoprire! Nero Giardini! Il Made in Italy! Nerf! Basta un suono! Per scatenare una potenza mai vista! Con il nuovo Nerf Ruccus! Sprigiona la tua potenza con il nuovo Ruccus! L'unico è Nerf! Gli Avengers sono tornati con i Titan Hero Power FX! Dai voce ai tuoi supereroi! Io sono Iron Man! Ed unisciti a loro nella battaglia contro il terribile Thanos! Rivivi imprese straordinarie con tutti gli eroi Marvel! e scopri l'incredibile collezione Titan Hero! Se vuoi trovare tuo padre, serviremo l'uno all'altro! Ovviamente ho già dovuto sistemare questo tonto! Mi toccherà rifarlo! Non ci riesco quando mi guardano! Pokémon Detective Pikachu! Dal 9 maggio al cinema! Quando il male gioca le sue carte! Dai un'occhiata! Il pericolo è imminente! Lasciati andare strega! I miei ricordi sono già stati rubati in passato! Ma una cosa è certa! Con loro in circolazione! Non lascerò che succeda di nuovo! Conosce anche lui i trucchi ninja! Le leggendarie stelle ninja! Della ninja clone agganciata! Sono al sicuro! Power Rangers Super Ninja Steel! Ce l'abbiamo fatta! Su Pop! Tra poco! Pokémon nero e bianco! Avventure a unima e altrove! Tutti possiedono almeno un orologio! Super Charlie è qui! Charlie è tardi! Su Pop! Eravamo grezzi, ineducati! Ma avevamo qualcosa! Qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda! Soltanto che uno... ...è un gatto! Mia mia! L'altro! Quasi! Gatto con trefatto! Su Pop! Bello! Pupsi Sparkling Crater! Che cuzzole proverai! Dagli da bere squadre e vedrai! Che cosa farai! Farà spit o farà poop? Pupsi Sparkling Crater! Cuccioli poopsi! Giocchi preziosi! Spit o poop? Fortnite! Battle Royal Collection! Tante skin! Tanti accessori! Tante... Coccole! Ah, cado! Più di cento mini personaggi da collezionare! Fortnite! In edicola! E nei migliori negozi di giocattoli! Se vuoi trovare tuo padre, serviremo l'uno all'altro! Ovviamente, ho già dovuto sistemare questo tonto! Mi toccherà rifarlo! Non ci riesco quando mi guardano! Pokémon Detective Pikachu! Dal 9 maggio al cinema! È arrivato lo strezza giornali! Pazzi personaggi da strezzare! Più non posso! Mille colori e tante maschere intercambiabili! Trizza Cervelli! Ti farà ventazzire dal divertimento! Da Dice! Irresistibili goccio di cioccolato su squisita pasta frolla! Gocciole pavesi! Riparti con più gusto! Ogni volta che incontri un Pokémon, nasce una storia speciale! Con lui combatterai, esplorerai, lo vedrai evolversi! Proprio come Charizard! Le mega evoluzioni sono fantastiche e rendono i tuoi Pokémon imbattibili! Diventa un vero allenatore con Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee! Solo su Nintendo Switch! Senti che te è Sant'Anna! Sant'Anna! Senti che te è Sant'Anna! Sant'Anna! Senti che te è Sant'Anna! Sant'Anna! Bevilò perché? Perché è vero infuso di te in acqua Sant'Anna con il succo dei migliori frutti! Senti che te è Sant'Anna! 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 Buono come lo immagini! Io sono Capitano America Io sono Iron Man Io sono Hulk Io sono Tano La battaglia finale è nelle tue mani con i nuovi set Lego Marvel Avengers Ma è la foresta di Mascia e Orso! Alle Olandia ci sono tantissimi mondi da scoprire come la foresta di Mascia e Orso la nuova area dedicata ai personaggi dei cartoni con Broom tante sorprese per tutta la famiglia e il nuovissimo show Il Circo della Foresta e se vieni a maggio per incontrare Bing e Flop torni gratis a Luglio Scopri con noi l'Olandia! Peepot Baby Ma che sorpresa! Scopri un tenero baby con accessori vestilo e prenditi cura di lui così teneri tutti da collezionare Peepot Baby Che sorpresa! GRANDI GIOCHI! SURPRISE, SURPRISE, FLOWER SURPRISE Entra nel magico mondo di Flower Surprise con i profumi reali dei fiori sotto i petali si nasconde una bellissima principessa da pettinare e acconciare collezionali tutte GRANDI GIOCHI! Qual è il problema? Chi lotta? Può perdere Pikachu! Ma chi non lotta? Bene, si comincia! Ha già perso Schivalo! Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi Allora ci siamo Ecco, sistemato Potete farcelo! Le sfide più epiche continuano con Loro che sono Pokémon Nero e Via Non vedevamo l'ora, non è vero Pikachu Su Poppa Quando il male gioca le sue carte Dai un'occhiata! Il pericolo è imminente Lasciati andare, strega! I miei ricordi sono già stati rubati in passato Ma una cosa è certa Con Loro in circolazione Non lascerò che succeda di nuovo Conosce anche lui, trucchi ninja Le leggendarie stelle ninja Bella ninja clone agganciata! Sono al sicuro Power Rangers Super Ninja Steel Ce l'abbiamo fatta! Support Tra poco Già a Schieting Tutti possiedono almeno un orologio Senza speranza Non ho sentito la sveglia stamattina No! È tutto sotto controllo, tranquilla Super Charlie è qui! Charlie è tardi Su Poppa Eravamo grezzi, ineducati Ma avevamo qualcosa Qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita! Che carino! Un gatto cantante a due teste! Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda Soltanto che uno È un gatto L'altro Quasi Gatto contrafatto Su Poppa Senti che te è Sant'Anna Senti che te è Sant'Anna Senti che te è Sant'Anna Sant'Anna Bevilò perché Perché è vero infuso di tè In acqua Sant'Anna Con il succo dei migliori frutti Sant'Anna Sant'è Sant'Anna Buono come lo immagini Ci siamo ispirati al piacere di stare insieme Per creare specialità ricche di sapore Come le nostre gustose salsicce Con pollo e tacchino 100% italiano Uniche Parola di Francesco Amadori Oggi Snoopy parte per Marte Il pianeta rosso Scopri lo spazio con Snoopy Nel tuo Happy Meal Impara qualcosa di nuovo ogni giorno Da oggi con ogni Happy Meal Puoi scegliere tra un libro o un gioco Scopri con noi le avventure dei gemelli Gelsomino In esclusiva solo da McDonald's Collezionale tutte Posso renderti ricco Tanto da lasciare a bocca aperta una principessa Che cosa dovrei fare? Portami la lampada Guarda qua Attento! Sul Siterio Attende il momento adatto Davvero? Puoi contare sempre su un amico grande come me Aladdin Dal 22 maggio Al cinema Nerf Basta un suono Per scatenare una potenza mai vista Con il nuovo Nerf Ruccus Sprigiona la tua potenza con il nuovo Ruccus L'unico è Nerf Gli Avengers sono tornati con i Titan Hero Power FX Dai voce ai tuoi supereroi Io sono Iron Man Ed unisciti a loro nella battaglia contro il terribile Thanos Rivivi imprese straordinarie con tutti gli eroi Marvel E scopri l'incredibile collezione Titan Hero Ma è la foresta di Mascia e Orso? All'Eolandia ci sono tantissimi mondi da scoprire Come la foresta di Mascia e Orso La nuova area ricca di sorprese per tutta la famiglia E domenica 19 maggio ci sono anche loro Miracle News Up! Raddoppia il divertimento Se vieni a maggio torni gratis a luglio Capricanoi l'Eolandia Io sono Capitano America Io sono Iron Man Io sono Hulk Io sono Thanos La battaglia finale è nelle tue mani Con i nuovi set Lego Marvel Avengers Costruisci le battaglie più epiche Con i nuovi set Lego Star Wars Sì! Vai con i missili! Dai! Sconfiggiamo l'impero! E vai! Oggi puoi costruire le battaglie più epiche Con i nuovi set Lego Star Wars Ah cavolo Ecco qua Lo so Che tu ora non puoi capirmi Però metti giù la spillatrice O Io Folgolo con una scarica a te Scusa Hai parlato? Wow E tu mi hai capito Oddio mio Tu riesci a capirmi? Smettilo tanto solo È la magia Che ci ha fatto incontrare una magia Che si chiama speranza Pokémon Detective Pikachu Dal 9 maggio al cinema Posso renderti ricco Tanto da lasciare a bocca aperta una principessa Che cosa dovrei fare? Portami la lampada Guarda qua Apri gli occhi e ti trai La tua notte più bella È un mondo che appartiene a me Aladdin Dal 22 maggio al cinema Ehi Maxi Facciamo una passeggiata? Non voglio andare dal veterinario Il veterinario? No Il dottor Francis è specializzato in disturbi del comportamento È la mia umana che è morta Nel prodotto Ma morta nella spazzatura Non ne faccio mai una giusta per te brutta Io corro E poi corro E poi esco E dove sono? Sempre qui Sempre qui A noi piace incendiare Pets 2 vita da animali Al cinema Qual è il problema? Chi lotta Può perdere Pikachu Ma chi non lotta Bene, si comincia Ha già perso Schivalo Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi Allora ci siamo Ecco, sistemato Potete farcelo Le sfide più epiche Continuo con Loro che sono Pokémon Nero e Via Non vedevamo l'ora Non è vero, Pikachu Su Poppa Quando il male gioca le sue carte Dai un'occhiata Il pericolo è imminente Lasciati andare, strega I miei ricordi sono già stati rubati in passato Ma una cosa è certa Con loro in circolazione Non lascerò che succeda di nuovo Conosce anche lui i trucchi ninja Le leggendarie stelle ninja Della ninja clone agganciata Sono al sicuro Power Rangers Super Ninja Steel Ce l'abbiamo fatta Su Poppa Tutti possiedono almeno un orologio L'orologio del mio bisnob Soltanto che alcuni Non lo guardano molto spesso Abbiamo ancora te Sarà impossibile fare tardi oggi Charlie Sei senza speranza Non ho sentito la sveglia stamattina No È tutto sotto controllo Tranquilla Super Charlie è qui Charlie è tardi Su Poppa È arrivato lo strezza cervelli Pazzi personaggi da strezzare A più non posso Mille colori e tante maschere intercambiabili Strezza cervelli Ti faranno impazzire dal divertimento Da Dice Pivot Baby Ma che sorpresa Scopri un tenero baby con accessori Vestilo e prenditi cura di lui Così teneri Tutti da collezionare Pivot Baby Che sorpresa Grandi giochi Oh look at Apri una porta Cosa mai troverai? In ogni porta Tanti fantastici accessori E una chiave nascosta Ogni chiave apre la porta successiva Scopri il contenuto dello scrigno segreto Follow goods Grandi giochi Bicca Con il potere del gioco di squadra Cadrai sempre in piedi L'espansione sole e luna Legami inossidabili Del gioco di carte collezionabili Pokémon È ora disponibile Ogni busta di espansione Da dieci carte Venduta separatamente Le carte variano a seconda Delle buste Solo in arrivo Nuovi twisty pets Coloratissimi animaletti Che si trasformano in braccialetti Scopri i glitterati I vellutati E i super rari Ci sono più di 60 Nuovi twisty pets Tutti da collezionare Twisty pets Gli unici originali Da Spin Master Eravamo grizzi Ineducati Ma avevamo qualcosa Qualcosa che mi avrebbe Cambiato la vita Che carino Un gatto cantante A due teste Entrambi hanno Due orecchie a punta E una coda Soltanto che uno È un gatto L'altro Quasi Gatto contrafatto Su Pop Tra poco Già skidding Qual è il problema Chi lotta Può perdere Pikachu Ma chi non lotta Bene si comincia Ha già perso Schivalo Dobbiamo fermarlo Prima che sia troppo tardi Allora ci siamo Ecco sistemato Potete farcelo Le sfide più epiche Continuo con Loro che sono Pokémon nero e via Non vedevamo l'ora Non è vero Pikachu Gazzin Su Pop Nerf Basta un suono Per scatenare una potenza Mai vista Con il nuovo Nerf Ruccus Sprigiona la tua potenza Con il nuovo Ruccus L'unico È Nerf Gli Avengers Sono tornati Con i Titan Hero Power FX Dai voce ai tuoi supereroi Io sono Iron Man Ed unisciti a loro Nella battaglia Contro il terribile Thanos Rivivi imprese straordinarie Con tutti gli eroi Marvel E scopri L'incredibile collezione Titan Hero Io sono Capitano America Io sono Iron Man Io sono Hulk Io Sono Thanos La battaglia finale È nelle tue mani Con i nuovi set Lego Marvel Avengers Mojipops Tristi o trendy Lo decidi tu Scopri le storie di Mojipop E scegli gli accessori più divertenti Sono più di 90 Tutti da collezionare Mojipops Da Magic Box Sono arrivati i nuovi Super Zinx Più di 80 nuovi personaggi da collezionare Con i nuovi nascondigli Cerca i Super Zinx Cristallo E scopri i nuovissimi super veicoli Super Zinx Da Magic Box Quando il male gioca le sue carte Dai un'occhiata Il pericolo è imminente Lasciati andare strega I miei ricordi sono già stati rubati in passato Ma una cosa è certa Con loro in circolazione Non lascerò che succeda di nuovo Conosce anche lui i trucchi ninja Le leggendarie stelle ninja Bella ninja clone agganciata Sono al sicuro Power Rangers Super Ninja Steel Ce l'abbiamo fatta Su Pop Tutti possiedono almeno un orologio L'orologio del mio bisnob Soltanto che alcuni Non lo guardano molto spesso Abbiamo ancora te Sarà impossibile fare tardi oggi Charlie Sei senza speranza Ho sentito la sveglia stamattina No È tutto sotto controllo Tranquilla Super Charlie è qui Charlie è tardi Su Pop Eravamo grizzi Ineducati Ma avevamo qualcosa Qualcosa che mi avrebbe cambiato la vita Che carino Un gatto cantante a due teste Entrambi hanno due orecchie a punta e una coda Soltanto che uno È un gatto L'altro Quasi Gatto contrefatto Su Pop Tipo Tipo